Le passioni dei collezionisti, da Bertelli a Cattelan. Inaugurata ai magazzini delle sale di Cervia, la nuova mostra organizzata da CNA e curata da Claudio Spadoni. Un viaggio artistico della metà dell'Ottocento ad oggi attraverso le opere della collezione Martelli, della collezione Franci, della CA, la Ghironda Moderna Art Museum e della collezione Ettore Mina Zattoni. Dopo l'omaggio alle gallerie d'arte del 2021, fino al 20 agosto l'appuntamento culturale che si rinnova a Cervia da oltre 20 anni omaggerà il lavoro, il ruolo e la passione dei collezionisti. Intanto sono quattro collezioni del territorio emiliano-romagnolo e sono quattro collezioni straordinarie che sono ignote per buona parte, come quasi tutte le collezioni private, al grande pubblico che vede le raccolte d'arte dei musei o delle mostre. La scelta che ho fatto tra i tanti collezionisti che ci sono nel territorio è stata in base a un criterio abbastanza preciso, quello cioè che avessero delle identità molto diverse, collezioni nate con criteri e con finalità molto diverse l'uno dall'altro e quindi con caratteri anche di scelte molto distinte. Si passa da chi ha insistito moltissimo soprattutto sull'arte regionale, sull'arte emiliano-bolognese e dalle altre invece che con tipologie e con finalità diverse hanno toccato praticamente un orizzonte internazionale che va dal primo novecento, da artisti del primo novecento come De Pero, come Campigli, come Tossi e tanti altri fino ad alcuni considerati grandi star dell'attualità come per esempio Maurizio Cattelan insomma oppure come Luigi Ontani e altri artisti di questa levatura qui. Claudio Spadoni è una garanzia e lo dimostra anche la qualità della manifestazione di questa edizione. veramente abbiamo oggi il collezionismo che fa da padrone con delle opere straordinarie. Noi teniamo veramente molto a questa mostra perché rappresenta veramente il collegamento tra l'arte del saper fare, l'artigianalità e la creatività messa assieme. Quando questi due aspetti si fondono in un territorio come quello di Cervia tradizionalmente evocato all'anima del turismo, mettiamo insieme una ricetta come dire esplosiva che permette in qualche modo di dare un contributo anche all'economia del territorio attirando turisti e attirando esperienze non solo locali ma anche estere. Ormai sono quasi 25 anni che CNA promuove iniziative culturali sul territorio. Noi siamo fermamente convinti che oltre ad arricchire l'offerta che si propone a tutti i turisti e i residenti che vogliono visitare Cervia e vivere Cervia sia anche un modo per coinvolgere le persone nella riflessione. Il legame intimo fra arte e artigianato è sempre evidente, non si scalfisce mai col passare del tempo. Quindi siamo contenti di promuovere questa iniziativa culturale perché pensiamo davvero che possa arricchire ulteriormente la proposta Cervese per l'estate in corso. È importante inaugurare una mostra perché la cultura è un simbolo di ripartenza sempre quando si inaugurano e quando si assiste ad un evento culturale che sia cinema, teatro, musica, mostre è cibo per la mente, è nutrimento per l'anima. Poi quando ci sono dei grandi artisti come quelli che sono esposti qui al magazzino del sale ringrazio naturalmente la CNA per questo regalo che tutti gli anni fa al comune di Cervia. C'è anche un contenuto culturale e anche di attrattività turistica importante. In una località che fa del turismo balneare la sua forza principale credo sia importante insistere sulla diversificazione dell'offerta e sulla possibilità e capacità di offrire ai turisti dei momenti culturali importanti come questi per lasciare dentro di sé dopo l'esperienza della vacanza un buon ricordo. Una località turistica che miri ad essere competitiva non può prescindere dalla cultura nella sua offerta turistica. Un'offerta turistica che diventa così più articolata, più di qualità e indispensabile per intercettare turisti, visitatori che amano il bello, amano le opere d'arte e amano anche i contenitori di queste opere d'arte perché qui parliamo di architetture di pregio completamente recuperate ormai da anni. Tutto il centro storico con una certa coerenza architettonica è stato recuperato da anni e diciamo che ribadisce l'intrinseco legame fra Cervia e il sale. Un legame che vuol dire economia, vuol dire società, vuol dire cultura. Cervia è la città del sale e negli immobili che per centinaia di anni hanno ospitato questa attività economica ora facciamo splendide mostre.